Femca Cisla, Dignoti Parenti, Sviluppo Ambiente e Sicurezza, un confronto unitario sul polo petrolchimico. E' stato eloquente il segretario Femca Cisla, intervenuto al congresso della FICTEM CGL, benvenuto al tavolo tecnico della Prefettura sulla zona industriale per lo sviluppo ambiente e sicurezza, un confronto sul polo petrolchimico, proteso ad affrontare le varie tematiche di tutta l'area industriale, rigadente nei comuni di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo, è stato convocato dal Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, al quale hanno preso parte le autorità locali, un tavolo per costituire un punto di incontro e dialogo fra il mondo delle imprese, del lavoro e degli enti locali per promuovere iniziative concrete di cooperazione, nonché percorsi condivisi volti a favorire legalità, coesione sociale e sviluppo. Come altrettanto positivo l'avvio per il patto di responsabilità sociale, che ha sviluppato attorno a sé tante tematiche sulla competitività delle imprese, partendo dal patto di responsabilità sociale per Siracusa e dalla felice intuizione di creare coesione sociale tra diversi portatori di interesse per puntare ad uno sviluppo sostenibile del territorio. Io vorrei volare ad altezza uomo per non perdere la visione delle cose vere, ma avere la capacità anche di alzare un attimino l'attenzione sulle strategie complessive. Noi dobbiamo avere, dico, nessuno mi può peccare di piaggeria, Confindustria sta portando avanti una serie di iniziative sulla sostenibilità, quella è la grande sfida a cui tutti siamo chiamati a raccoglierla in maniera forte, non è un'opzione la sostenibilità dell'azienda, la sostenibilità è una, e non gli do anche il tono della scommessa, perché la scommessa pregiudica qualcosa che può anche non essere colto della serie, ci abbiamo provato, è un'opzione assolutamente necessaria e utile, perché quella ci permette di traghettare, ci permette di avere consapevolezza dei meccanismi che muovono alcune cose che magari... ed evitare lo scontro fino a se stesso giusto per dare visibilità o piccole battaglie di posizione.